Al meeting, nell'Ossendania, Matteo Federici, ottico specializzato a Roma, svolge visite e offre indicazioni per prevenire patologie oculistiche. Sicuramente lo screening visivo è importante per tutta la popolazione, proprio per andare a valutare delle patologie che ancora non sanno di avere. Quindi questa forse è la caratteristica, il motivo più importante di questo screening visivo. Aldo Sabatini, tecnico, svolge esami inerenti ai riflessi, dalla velocità con cui l'individuo reagisce ai riflessi, alla capacità di concentrazione alla guida. È un test dell'esame della vista semplice, sono i riflessi, misura i riflessi volontari e la tendenza a poter far sì che si possa capire se il soggetto possa mantenere la concentrazione. Sonia Barbetti, specializzando in neuropsicologia e la sapienza di Roma, svolge esami contro l'invecchiamento della mente. È importante effettuare questo screening in modo tale da prevenire situazioni di deterioramento e intervenire quindi in maniera preventiva e attraverso processi di riabilitazione specifici, qualora dovessero esserci dei problemi specifici in alcune funzioni cognitive.